Sì, ho capito, ma bastava che mi chiamassi, non trovi? Non ho ancora lo smartphone, devo ancora arrivare a quel tutorial, comunque se ti cambi da me facciamo il video, mangio due chili di qualcosa, tipo Luis. Va bene, però chi lo fa il video? Ce l'hai tutta l'attrezzatura? L'ho ordinata, quello è il corriere di Amazon con il mio pacco. Vuoi unirti a me mentre mangio qualcosa? No. Sicura? No. Non sei sicura? Ok, la smetto. Che cosa potrei mangiare? Carne, verdura. E se bevessi due litri di coca mangiandoci insieme delle mentos? No. Potrei mangiare una pizza, con ingredienti insoliti. Albicocche e cotoletta. Mai e poi mai credo siano state messe delle albicocche sopra una pizza, mentre so che la cotoletta viene venduta anche sulle pizze surgelate. Insomma, un vero schifo. Magari così lancieremmo una nuova dieta. No. Secondo te non ho nessuna speranza? No. Apprezzo l'impegno. Complimenti per la creatività. Molte grazie. Ma avrei preferito che mi aiutassi. Cioè, non so nemmeno come ti chiami. Dopo questa notte insieme mi hai fatto vedere il video di Luis Sal e poi questa sfida. Laura. Sì. Beh, che meraviglia. Comunque, i video di Luis sono belli. Surreali, ma... ma belli. Ciao. Ciao.